Bene, oggi ci occuperemo di questi due termini intenzione con la S e non con la Z e estensione e spiegare perché Lacan utilizza questi due termini nello scritto in cui si occupa della passa. Vedremo in un secondo tempo a che cosa si riferisce la passa. Intanto cominciamo con delle definizioni di spiegare cosa intendiamo per intenzione e estensione, che sono due termini che fanno parte della logica. Sono due modi per definire una classe. Facciamo un esempio. L'esempio è il seguente. Inventiamo il nome di una villa alfa e vogliamo definire la classe degli abitanti di questa città alfa. Abbiamo due possibilità che sono una per intenzione e l'altra per estensione. Cominciamo con quell'estensione che è la più facile. Facciamo che il numero degli abitanti di alfa è quattro. Sono quattro abitanti che compongono questa piccolissima città. Bene, la definizione per estensione sarebbe quella di nominare i singoli abitanti di questa città alfa. Per cui avremo Luca, Roberta, Giovanni, Matteo. Ecco la definizione per estensione per estensione, nel momento in cui nomiamo ogni abitante che compone questa classe degli abitanti di alfa. Vediamo adesso la definizione per intenzione. Beh, la definizione di alfa è la proprietà che va a soddisfare ogni nome che è definito nell'estensione. Dunque, Luca è un abitante di alfa, Roberta è un abitante di alfa, Giovanni è un abitante di alfa e Matteo è un abitante di alfa. Dunque, l'enunciato, la definizione per intenzione, indica la proprietà e la definizione per estensione è la nominazione di quegli oggetti che soddisfano alla proprietà enunciata da la definizione per intenzione. Ecco la spiegazione di cosa intendiamo per intenzione e estensione. Vediamo adesso nel campo della psicanalisi e vediamo un po' Lacan perché utilizza questi due termini in quello scritto in cui si occupa della PAS. Che cos'è la PAS? è una procedura che Lacan inventa, che non c'era prima di lui nel mondo della psicanalisi e questo dispositivo si concretizza nell'ambito di una scuola di psicanalisi. Vediamo un po' concretamente in che cosa consiste. Beh, consiste in questo. Un analizzante, colui che ha seguito un percorso analitico, si trova alla fine del suo percorso e ha il desiderio di diventare psicanalista. Dunque è analizzante e desiderio di essere analista che va a testimoniare questo suo desiderio a un analista della scuola e in seguito a questa procedura l'analizzante che vuole diventare analista potrà o no essere nominato come analista della scuola. Dunque la nomina. Qui abbiamo la nomina. Ebbene, le definizioni dunque di intenzione e estensione riguardano qui il che cos'è un analista, cioè la definizione di un analista. E abbiamo a questo punto la possibilità di definire cosa è un analista in termini di definizione di intenzione o estensione. Intenzione è, la definizione di l'analista è colui che ha finito il percorso in quanto analizzante e ha il desiderio di diventare analista e questo tiene alla propria responsabilità della persona. La definizione per estensione è qualora questa persona ottiene la nomina, è nominato e qui poi si potrà dire per esempio Luca è un analista. Luca è un analista. In questo caso qui vediamo che la definizione è per intenzione e passa per la nomina. Sappiamo che dopo per Lacan questa procedura è stata, non ha ottenuto l'effetto che pensava, ma queste due definizioni, intenzione e estensione riguarda l'analista, che cos'è un analista, rimarrà comunque sia anche in quella altra formula molto conosciuta, celebre di Lacan, che dice che una lista è colui che colui che si autorizza da sé e poi aggiunge tre puntini e di qualche altro. inteso qui come qualcun altro analista. Per cui anche qui troviamo le due definizioni per intenzione e estensione di che cos'è un analista. Analista è colui che si autorizza da sé e colui che ha finito una propria analisi e ha il desiderio, ha avuto il desiderio di diventare analista e dunque tiene la propria responsabilità di occupare questo posto. Qui abbiamo la definizione per intenzione. La definizione per estensione è che e e e Grazie a tutti.